Nel 1982, subito dopo Vincent, Barton cominciò a lavorare un progetto basato su una poesia, a sua volta ispirata a Twas the Night Before Christmas, di Clement Clark Moore. Era la storia, intitolata Nightmare Before Christmas, di Jack Skellington, il re di Halloween, che scopre, casualmente, l'esistenza di Christmas Town e si mette in testa di mettere le mani sul Natale. La prima spinta è venuta da Dr. Seuss e dagli special che facevano in tv durante le festività, come How the Grinch Stole Christmas o Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Quelle rozze animazioni che un anno sì e un anno no passavano in tv mi avevano fatto un effetto enorme quando ero piccolo, e la cosa mi era rimasta dentro. C'ero cresciuto con quella roba e mi piaceva davvero. Penso che, senza essere troppo schematici, la prima ispirazione sia venuta da loro. Quando ho scritto quella poesia, pensavo che sarebbe stato Vincent Price a leggerla. Dunque, lui è stato l'ispirazione primaria di una storia che doveva essere un po' il seguito di Vincent. All'epoca, immaginavo di farne uno special televisivo o anche un cortometraggio, qualsiasi cosa fosse stata possibile al momento. Poi, quando ho cominciato a lavorarci, è stato molto buffo perché sono stati tutti molto disponibili con me, e io mi sentivo come nel telefilm e il prigioniero. Ti trattano tutti benissimo, ma sai che non ne uscirai mai vivo. Ne ho parlato alle grandi catene televisive, ho fatto degli storyboard e dei disegni. Piaceva a tutti, ma non era mai il momento giusto per farlo. Credo di aver provato in quell'occasione, per la prima volta, cosa voglia dire la mentalità hollywoodiana. Un gran sorriso e certo che lo faremo! E poi, via via che vai avanti, tutto diventa sempre meno reale. L'idea era nata subito dopo Vincent, un'epoca in cui ero fissato con l'animazione a passo 1. Avevo visto l'animazione fatta con l'argilla. Avevo visto le animazioni di Ray e Rehausen. Con Vincent non avevamo cercato di spingerci oltre i limiti di quella tecnica, ma solo di raggiungere una maggiore definizione. Quando usi l'argilla, secondo me, molti dettagli vanno persi. Volevamo ottenere gli stessi effetti che ottieni quando disegni una cosa, ma volevamo farlo in tre dimensioni. Ho sempre pensato che Nightmare avrebbe dovuto essere un passo avanti rispetto a Vincent, ma all'epoca lo pensavo solo nei termini di un'animazione più definita. Tutto sommato, è più facile lavorare con i disegni, puoi permetterti molto di più proprio perché puoi disegnare qualsiasi cosa. L'animazione tridimensionale è più limitata, perché quel che stai facendo è muovere dei pupazzi. Anche se penso che sia più efficace, perché ha una maggiore realtà, perché le cose, gli oggetti, sono veramente lì davanti a te. Con Nightmare avevamo un problema in più. Tutti i personaggi erano stati pensati senza occhi. La prima regola dell'animazione è L'espressione dipende dagli occhi. Ma i nostri personaggi avevano occhi dalle palpebre cucite, o non li avevano affatto. E io pensavo, se riusciamo a dare un'espressione a questi personaggi senza occhi, sarà una cosa fantastica. Senza contare che, dopo essere stato costretto a disegnare per la Disney tutte quelle volpi dai grandi occhi lacrimosi, mi sembrava quasi rivoluzionario lavorare con personaggi senza occhi. È stato buffo inventarsi questi personaggi con dei buchi scuri in faccia e cercare di farli funzionare. L'idea di partenza di Nightmare ha dunque molto a che vedere con gli special televisivi come Rudolph e il Grinch. È un tema che mi colpisce sempre. Quello di un personaggio come il Grinch, che viene ritenuto spaventoso, e invece non lo è. La stessa cosa vale per i film di mostri che vedevo da bambino. Venivano considerati orripilanti e cattivi, anche se non lo erano. È lo stesso succede nella vita. La gente spesso viene percepita come non è. Una situazione nella quale mi ero trovato anch'io, e non mi era piaciuta per niente. Poi ho sempre amato quei personaggi incompresi, ma pieni di passione e sentimenti. Jack è simile a molti di quei personaggi della letteratura classica che sono bruciati da una passione, dal desiderio di fare qualcosa che gli altri non capiscono. Capita così anche nel Donkey Shot, in cui il protagonista parte alla ricerca di una sensazione, anche se non sa neppure lui qual è. Per me è una cosa primaria. Cercare qualcosa che non sai cos'è, e al tempo stesso metterci tutta la passione possibile. Ci sono vari spetti del personaggio di Jack che mi piacciono e con i quali mi identifico. Hanno a che vedere con me. Avevo cominciato a lavorare al progetto all'epoca in cui la Disney era ancora sospesa tra la vecchia dirigenza e quella nuova, e quando non sapevo neppure se fossi ancora un loro dipendente o no. Stavo lì e basta. Ad ogni modo, era una cosa che volevo realizzare, di questo ero sicuro. Si era parlato di farne uno special televisivo oppure un cartone animato. Due cose che non volevo fare. Così decisi di mettere da parte il progetto con l'idea che prima o poi ci sarei tornato sopra. È strano, perché ci sono dei casi in cui pensi o lo faccio adesso o mai più. Ma con Nightmare è stato diverso. Nel corso degli anni, Burton tornò periodicamente a ripensare a Nightmare e nel 1990 chiese al suo agente di verificare se i diritti fossero ancora della Disney. Non sapevo neppure se i diritti fossero ancora loro. Così abbiamo cominciato con un basso profilo chiedendo possiamo dare un'occhiata ai vostri archivi? E comunque i diritti erano loro perché loro possiedono tutto. Quando entri a lavorare lì ti fanno firmare un pezzo di carta che dice che qualsiasi cosa tu pensi durante il periodo in cui sei un dipendente diventa automaticamente di proprietà della loro polizia del pensiero. Quindi non c'era modo di farlo facendo finta di niente. Ci abbiamo provato ma loro sono accorsi subito. Però devo dire che si sono comportati da persone per bene il che è contro la loro natura e per questo mi sento molto onorato e grato del fatto che ce l'abbiano lasciato girare. Tutto questo è successo dopo Edward Mani di forbice e dopo Batman e il motivo per cui hanno detto di sì è che nel frattempo io avevo avuto la fortuna di trasformarmi in un regista di successo. Quella è davvero l'unica ragione. Non è che i tempi fossero diventati improvvisamente giusti ma devo dare atto alla Disney di aver capito quel che stavamo cercando di fare riguardo all'animazione e su questo sono stati collaborativi. La Disney si accorse di avere un tesoro nascosto nei suoi archivi e colse la palla al balzo. Non solo voleva lavorare con Barton ma aveva anche capito che con quel lungometraggio d'animazione sarebbe riuscito a rafforzare la sua reputazione in quel campo. Il primo esempio di animazione a passo 1 risaliva al 1907 The Haunted Hotel di J. Stuart Blackton ma era stato Willis O'Brien il primo grande pioniere di quella tecnica con Un mondo perduto del 1925. Lo stesso O'Brien che avrebbe realizzato i memorabili effetti speciali per King Kong del 1933. Quindi il testimone passò a Ray R. Hausen che creò una serie di personaggi fantastici in film come gli Argonauti o nella serie di Sinbad. Nel 1983 per il ritorno dello Jedi la industria Light and Magic aveva fatto uso di una variante dell'animazione a passo 1 la Go Motion in cui gli oggetti apparivano un po' più sfocati allo scopo di rendere più realistici i movimenti. Contemporaneamente l'avvento della grafica digitale computerizzata si era mostrata in grado di risolvere problemi che a un tempo sarebbero stati affrontati con l'animazione a passo 1 cosa che produsse il declino di questa tecnica. A tenerla in vita con passione erano rimasti solo l'inglese Nick Park regista del corto Creature Comfort premiato con un Oscar e l'americano Henry Selick autore di pubblicità cortometraggi e loghi per MTV. L'animazione a passo 1 è una vecchia e originale forma d'arte anche se abbiamo usato anche tecnologie più aggiornate Nightmare è di fatto il risultato del lavoro di artisti che si sono messi lì a dipingere dei set o a costruire degli oggetti. C'è qualcosa di molto gratificante in questo qualcosa che amo e che non dimenticherò mai è proprio il lato artigianale della cosa generare questa energia così difficile da descrivere te ne accorgi quando vedi gli animatori che muovono i pupazzi c'è un'energia controllata è come quando vedi un quadro di Van Gogh ricordo la prima volta che ne ho visto uno dal vero l'avevo già visto su un libro ma solo lì ho scoperto quanta energia ci fosse nella tela è una cosa di cui nessuno parla mai perché appunto non è facile da descrivere la stessa cosa succede con l'animazione a passo 1 credo che sia questa la forza di Ray Riausen fatta a regola d'arte riesce a comunicarti l'energia che è concentrata dentro una cosa che i computer non riusciranno mai a riprodurre per quanto possano diventare efficaci per quanto possano essere o diventare sempre più raffinati non avranno mai quella cosa quella che c'è tra il pittore e la tela noi non avevamo scelta con questo tipo di personaggi ed immagini non potevamo usare altro che l'animazione a passo 1 che poi è una cosa molto specialistica ricordo che ogni inquadratura ogni singola ripresa corrispondeva a una piccola botta di energia fantastico una specie di droga è stato lì che ho capito chiaramente che se l'avessimo girato con degli attori in carne d'ossa o se ne avessimo fatto un cartone animato non sarebbe stata la stessa cosa l'animazione a passo 1 possiede un'energia che nessun'altra tecnica può dare sebbene tenesse molto al progetto Barton non ne curò la regia un po' perché era impegnato con Batman in ritorno e un po' perché la preparazione di un film del genere è straordinariamente lunga scelse invece Henry Selick che aveva conosciuto all'epoca della Disney e a cui aveva mostrato i primi disegni di Nightmare nel 1982 fin dall'inizio degli anni 80 Selick si era stabilito a San Francisco l'area più attiva nel campo dell'animazione a passo 1 proprio a San Francisco Barton e il braccio adulto della Disney la Touchstone decisero di fondare la Skellington Productions e diedero il via nel luglio 1991 alla produzione del film Henry è davvero un artista il migliore nel suo campo aveva fatto un mucchio di cose splendide per NTV e continuava a fare delle eccellenti animazioni a passo 1 a San Francisco c'è un gruppo di gente molto in gamba per questo tipo di animazione quando non ero impegnato con le riprese di Batman e Ritorno mi piaceva andarli a trovare ma il più delle volte mi facevo mandare le cose da Henry in media un paio di riprese a settimana così nel corso di due anni siamo riusciti a mettere assieme il materiale necessario mi spedivano una bobina e io nei ritagli di tempo ci lavoravo su in sala di montaggio le riprese sono talmente lunghe che ti danno il tempo a riguardare tutto molto tranquillamente anche i più piccoli dettagli per certi versi è stata la lavorazione più difficile della mia vita perché i tempi erano lunghissimi e le persone coinvolte erano tantissime per fortuna si trattava in larga parte di artisti e io per tutto il tempo ho cercato di rimanere vicino a loro perché so che l'animazione a passo 1 è una tecnica molto impegnativa tutti hanno contribuito in un qualche modo con idee e altro ma il mio problema era quello di restare fedele all'ispirazione originale anche se la storia si era ampliata cercavo di non allontanarmi mai da quel binario e via via che le sequenze si accumulavano io continuavo a stare in guardia a stare attento che non ci allontanassimo dal progetto originale probabilmente la mia preoccupazione maggiore era che Henry che è un artista non volesse fare le stesse cose che volevo fare io temevo che venissero fuori dei momenti di tensione e invece è stato tutto perfetto lui è stato magnifico per questo è importante trovarsi in sintonia fin dall'inizio con le persone con cui lavori i primi incontri sono la cosa più importante è come quando devi scrivere un libro quando lo fai cerchi di essere fedele al materiale su cui lavori volevo essere sicuro che anche Henry la pensasse così altrimenti ci saremmo trovati continuamente in contrasto e questo non ce lo potevamo permettere c'è gente che ama discutere perfino litigare sul set io no non mi piace lavorare con degli attori che non siano pienamente in sintonia con me voglio della gente che sia convinta al 100% anche se non capisce completamente il disegno generale grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti